Ci stiamo preparando a vivere la festa di tutti i santi. È una sosta nel nostro cammino di fede che rimette al centro la nostalgia dell'assoluto di Dio. È una festa in cui noi ricordiamo proprio tutti i santi, non solamente quelli che sono stati proclamati santi pubblicamente dalla Chiesa, ma anche tutte quelle persone che hanno manifestato dentro la nostra vita, dentro la vita delle nostre comunità, una presenza di santità. È proprio un richiamo forte ad avere questa nostalgia di assoluto. Dobbiamo sempre tenere a mente che però l'unico santo è Dio e che la santità proviene sempre e solo da Dio. È Lui che decide di condividere la sua santità con noi. In Gesù abbiamo scoperto che la santità di Dio è compassione, è misericordia, è capacità di perdono, è capacità di amare contro ogni limite, superando ogni limite. Il discepolo vive la santità tanto quanto capisce che questo è il progetto di Dio sulla sua vita. Essere e vivere la santità quindi non è compiere cose bizzarre, ma scoprire che al centro della propria vita ci sta questa modalità di relazione, ci sta questa modalità di scelta, ci sta questa modalità di giudicare le cose e le persone che ci circondano, tenendo al centro l'amore di Dio. In fondo i santi nella storia, nelle diverse condizioni di vita, hanno testimoniato sempre questo amore eccedente di Dio sulla loro vita e quindi diciamo che la festa dei santi è la festa un po' di tutti noi e soprattutto ricorda ciascuno di noi a quale destino è chiamato.